Ciao ragazzi, ben ritrovati. Post partita di Lazio Torino, risultato finale 2-0. Beh, un post partita che si potrebbe riassumere con tre semplici parole. Non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo per tanti motivi, perché abbiamo fatto un passo indietro rispetto a quello che si era visto con la Roma, perché la partita, diciamo se non nel primo tempo, già al fisco d'inizio del secondo tempo, sembrava segnata per come siamo scesi in campo e come l'abbiamo interpretata, e terzo perché secondo me abbiamo sprecato un'occasione per dare continuità dal punto di vista della prestazione e del risultato a quella che appunto è stata la parte di domenica sera contro la Roma, perché noi avevamo tutte le carte in regola per andare all'Olimpico e fare bene, contro un avversario che aveva la pressione di dover vincere o vincere davanti a 40.000 spettatori che avevano a loro volta delle aspettative molto alte e noi, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo fatto da sparring partner e gliel'abbiamo consegnata, perché infatti l'impressione che io ho avuto è proprio che nella seconda parte di match il Toro si sia di nuovo trasformato in quello visto a San Siro, con la squadra in gita premio che non aspettava altro che subire gol, perché tanto il corso degli eventi portava quello e quindi aspettiamo di prenderlo così poi possiamo abbassare i ritmi e portare fino in fondo la partita, ma non è il modo, non è il modo di scendere in campo, non è il modo di approcciare la partita e soprattutto ancora una volta prestazione deludente, insufficiente sia a livello collettivo che per quanto riguarda la maggior parte dei singoli e di conseguenza, ripeto, non ci siamo. Non ci siamo, sconfitta ovviamente meritata, basti vedere anche come sono arrivati i due gol della Lazio, il primo addirittura ce li siamo portati in area noi, va a segnare Vecino che tra quelli presenti in campo, giocatori di movimento della Lazio, quello più bravo negli inserimenti senza palla, che sa andare a gradire lo spazio, noi gli abbiamo lasciato una libertà di azione impressionante, tanto che lui riesce a partire da fuori area, a buttarsi dentro, a dettare il passaggio al compagno che nel frattempo sviluppa l'azione sulla destra e noi guardiamo. L'unico che ha provato a fare qualcosa è stato Bellanova che ha tentato una chiusura disperata e non era neanche compito suo, perché l'inserimento di Vecino è in zona centrale e quindi se lo sono persi chi? I due centrocampisti, nello specifico probabilmente più ricci che Tamez. Ma la cosa non sorprende, perché è stata una partita piena di disattenzioni, che è rimasta in controllo nel primo tempo soltanto perché la Lazio ha giocato con ritmi bassissimi e quindi noi, coprendo bene le zone di campo, siamo riusciti sostanzialmente a renderli inoffensivi. Tanto è vero che di vere e proprie occasioni la Lazio nel primo tempo non le ha avute, se non quella mezza occasione in mischia con Casale, ma comunque su calcio da fermo. Certo, va anche detto che noi, dalle parti di prove del non ci siamo sostanzialmente mai arrivati, se non per quel tiro respinto in bagger, con Zappata che poi ha provato la ribattuta rete, e l'ha spedita fuori. Per il resto poca roba veramente. E quella è stata l'occasione più grande che abbiamo avuto. È stata l'occasione più ghiotta che abbiamo avuto, se così vogliamo chiamarla. E capite quindi che, proprio perché trovavamo un avversario sotto pressione, si poteva e si doveva fare di più. Poi Iuric nel post partita dice avevamo speso tante energie mentali per la partita contro la Roma, sarà anche vero, ma non è che le partite le giochiamo solo noi e gli altri no. Anche la Lazio arrivava da un momento complicato, io non discuto il fatto che a livello qualitativo nei singoli loro siano superiori, ma noi non abbiamo fatto nulla. Non abbiamo fatto nulla per provare a soverchiare il pronostico. Tornando anche ai gol, secondo, Zaccagni fa uno slalom con la pipa in bocca, ne salta uno, ne salta due, salta anche Bellanova che non lo può fermare perché è già munito e va direttamente in porta. Quindi manca proprio quel mordente che è figlio del fatto che il Toro in campo molto spesso non sa cosa fare e in più atleticamente e fisicamente siamo impresentabili. Perché se dopo sei partite, quattro delle quali hai limiti tra brutto e inguardabile, si fa una prestazione anche a livello di agonismo come contro la Roma e tre giorni dopo sei di nuovo scoppiato, significa che qualcosa non funziona. A tutto questo aggiungiamoci un altro grosso problema, che noi da centrocampo in su non abbiamo uno straccio di identità offensiva, non abbiamo uno schema, non abbiamo idee, non abbiamo la benché minima capacità di ritagliarci le occasioni per andare in porta. E questa è un'altra cosa che dalla partita di ieri sera è emersa in maniera clamorosa. Cioè qua bisogna mettere mano, perché non può passare il messaggio che noi non riusciamo a fare un'azione offensiva decente. Solite cose, possesso palla stedile, passaggino in orizzontale, le poche volte che si salta la prima linea di pressing e si cerca magari anche uno sbocco allargando il campo, aprendo gli esterni, gli esterni stoppano e tornano indietro perché non ci sono movimenti senza palla, nessuno dà la profondità. E ora io sento già i discorsi che verranno fatti, legati poi anche alla formazione che Yuri ci ha mandato in campo al principio. Il mister l'aveva detto, con due punte non si può giocare, eccetera, eccetera, eccetera. Tanto per cominciare non è vero, perché lui stesso nel post ha detto che Sanabria a lui è piaciuto e che questo esperimento potrebbe essere riproposto. Secondo poi, se fisicamente, athleticamente e agonisticamente siamo questi, te puoi giocare con una punta, due punte, tre punte, un trequartista, due trequartisti, puoi giocare con dieci attaccanti e un portiere, ma non cambia niente. Non cambia niente perché non c'è uno sviluppo del gioco che ti porta a rendere in maniera omogenea a livello offensivo. Non c'è, non c'è. E quindi è inutile che aggiungi, tralasciando poi il fatto che a metà secondo tempo fuori Zappata, fuori Tamez, che erano due dei, diciamo, semi-decenti, tra quelli presenti in campo, e lì si è capito che la partita ormai era scappata, non c'era possibilità neanche di riprenderla. Ma poi, anche chi è entrato, insomma, porca miseria, Radonic, Radonic, ok, ok, Radonic è entrato, sostanzialmente all'inizio del secondo tempo, siamo d'accordo, primo pallone giocavo, ma non primo per modo di dire, non primo per modo di dire, proprio il primo, cioè la prima volta che un compagno gli ha passato il pallone, lui ha fatto un alleggerimento indietro e ha spalancato il contropiede alla Lazio. Ora mi devi dire te, mi dovete dire voi, cioè, com'è entrato? Com'è entrato Radonic? Com'è entrato Radonic? Male, ma non perché io ce l'abbia con Radonic, però ti fa capire che sta partita è nata male e proseguita peggio, perché uno che entra fresco, almeno i primi dieci minuti, un quarto d'ora, nel frattempo comunque sei anche sotto, tu me la devi strappare sta partita, non è che mi puoi fare la differenza solo perché giochi titolari e senti la fiducia, tralasciando poi il resto della girando le sostituzioni, abbiamo finito con una sorta di 4-4-2 asimmetrico, con soppi terzino destro, pelle gre sanabre di punta, insomma, una confusione, una confusione senza senso. E poi, cioè, ci sono state delle prestazioni singole, io non voglio esagerare, ma 3 o 4, ma da vomito, cioè, uno schifo senza senso, Ricci, peggiore in campo, Blasic, idem con patate, Bellanova, 9 cose su 10 le ha sbagliate, ok? Poi, per carità, c'è anche chi, più o meno, il 6 stiracchiatto se l'è portato a casa, per esempio, Sassonov, Sassonov, per essere, diciamo, la prima partita semi-completa in Serie A, non ha fatto male, certo, contro questo Immobile, non è che ci fosse da sbattersi troppo, rimaneva comunque un banco di prova importante, ma ha anche detto che nella prima mezz'ora di partita, quindi, quando in campo c'era Buongiorno, prima dell'infortunio, Immobile fra un po' si metteva a piangere, perché fino a quel momento non ha neanche visto il colore del pallone, quindi, bravo Sassonov, ecco, visto che purtroppo Buongiorno pare abbia una problematica muscolare, vediamo, magari col Verona Sassonov può avere continuità, e cerchiamo di testarlo su una partita completa, magari contro un avversario che verrà a fare una tipologia di prestazione differente, non mi è dispiaciuto Tamez, non mi è dispiaciuto Zapata, ma ha predicato nel deserto, le poche volte che si è fatto trovare pronto, movimenti senza palla, aggressione degli spazi, niente, l'ho sciato completamente da solo, a Juric è piaciuto Sanabria, sì, diciamo che non è stato tra i peggiori, per il resto, ragazzi, una valle di lacrime, una valle di lacrime, nonostante l'avversario non abbia fatto poi chissà cosa per vincere questa partita, ha fatto il minimo indispensabile, esattamente come ha fatto il Milan, per sotterrarci, esattamente come ha fatto il Cagliari, per andarsene da Torino con un punto, io non so se avete visto il Cagliari dopo che ha pareggiato Torino contro di noi, come sta andando il campionato del Cagliari, no, perché io le partite le guardo, e vedo anche cosa esprimono le squadre in campo, cioè il Cagliari insieme all'Empoli, l'Udinese e la Stranitana, ha oggi la peggior squadra della Serie A, sembrano un esperimento in laboratorio, ideato e creato, a tavolino, per capire se uno come Zito Luvumbo li può salvare da soli, ok? E noi a momenti la perdiamo con la parte lì, e dove abbiamo mostro la classifica, l'abbiamo fatto o nei minuti di recupero, grazie alla giocata personale, o abbiamo sfruttato il calcio da fermo come contro la Roma, o così nel primo gol con la Stranitana, tutti episodi singoli, all'interno di prestazioni largamente insufficienti, ma tanto è un discorso che si è già fatto, e che a molti di voi non interessa, che per voi il calcio è 1x2, ma non è così, non è così, e quindi, e quindi, dopo la partita con la Roma è arrivata quest'altra bella batosta, non tanto nel risultato, non tanto nel risultato, consapevoli del fatto che con un filo più di attenzione, probabilmente tu dall'Olimpico te ne potevi andare muovendo la classifica, ma proprio perché tu sta partita, nel primo tempo, ancora ancora, poi quando loro hanno alzato i ritmi, ci hanno riaggrediti altri, hanno recuperato più palloni nella nostra metà campo, noi siamo usciti mentalmente dal match, io sinceramente sono preoccupato, perché per vedere queste cose qua, ok, non serve avere un allenatore che prende 2 milioni all'anno, un centravanti che ne prende 2 e mezzo, eccetera, eccetera, basta molto meno, ok, non serve avere una squadra con il nono Montengagi della Serie A, basta molto, molto meno, per vedere questi spettacoli pietosi, non vi fate lavare il cervello da chi vi racconta che questa squadra è scarsa, questa squadra non è scarsa, questa squadra qua, a calcio, se si mette lì, può giocarci, solo che alla narrativa di alcuni, fa comodo dire che sia scarsa, ah perché manca un trequartista, ah ma perché gli esterni non sono funzionali, ci sono squadre in Serie A che hanno molta meno qualità del toro, e che però palloni ci giocano, quindi con me questa cosa non attacca, ditemi la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, e lasciate un like al video, chiaramente, seguitemi sui miei canali social che vi lascio in descrizione, grazie per avermi ascoltato, ci vediamo con le pagelle, e sempre Forza Toro.